Sono risultati assolutamente importanti e sorprendenti rispetto alla validità della ventilazione meccanica controllata. Un investimento che ha prodotto risultati sul numero delle aule dove la ventilazione è installata e è un investimento che continueremo a fare perché oggi scopriamo l'efficienza e l'importanza di vivere in ambienti salubri per le classi e le scuole e cercheremo di farlo anche per altri ambienti. I dati dicono che a secondo della tecnologia applicata che in questo caso è stata scelta da comuni e le province si va da un miglioramento delle condizioni di salubrità delle aule di due volte superiore a quelle non dotate di ventilazione meccanica controllata fino a ben sei volte e voi capite che avere sei volte in meno di contagiati a causa della diffusione del covid minore in questo caso nelle aule dotate di ventilazione meccanica controllata significa aumentare la salute dei nostri ragazzi, dei nostri concittadini e significa anche ridurre la pressione sulle nostre strutture sanitarie. Noi abbiamo fatto un monitoraggio insieme al professor Ricolfi su circa 500 impianti installati nella nostra regione arriviamo sino al 25 invece per cento delle aule con gli stralci successivi del finanziamento in questo momento stiamo attendendo anche le linee di guida del governo per dare seguito a quella graduatoria di comuni e di province che si sono appoggiate sulla regione affinché potessero essere dotati i loro edifici di questa strumentazione particolarmente utile per combattere non solo la diffusione del covid ma tutte le altre patologie che possono essere trasmesse per via aerea. Sì è stata proprio una delle prime iniziative che avevo chiesto proprio alla giunta per tutelare i ragazzi e per evitare la prosecuzione insomma della DAD perché queste misure sono state appunto messe in atto per tutelare il più possibile i nostri studenti. Già da quando ero parlamentare insieme ai miei colleghi era una battaglia che avevamo iniziato proprio a livello nazionale e appena sono diventata assessore ovviamente abbiamo cercato di mettere in campo più misure e più risorse possibili per attuare questa aereazione meccanica nonché anche la misura dei sanificatori perché ricordiamoci che gli interventi sono stati due per un totale di 12 milioni di euro quindi 9 milioni per l'aereazione meccanica 3 milioni per l'acquisto invece di sanificatori che sono due misure entrambe valide per il contrasto insomma del diffondersi del virus.